Questa volta nel Mediterraneo c'era in campo tutta l'Europa. Navi italiane, tedesche e britanniche hanno soccorso nelle ultime 36 ore quasi 6.000 migranti. I primi barconi sono stati avvistati venerdì al tramonto da un'imbarcazione della Royal Navy, con a bordo il ministro della difesa inglese Michael Fallon. È un'ondata migratoria colossale, sono state le sue prime parole. 3.500 migranti sono stati salvati dalle navi dell'agenzia europea Frontex. Altri 2.371 sono stati tratti in salvo da 15 barconi, a 45 miglia dalle coste libiche. La maggior parte dei migranti è sbarcata a Palermo e Trapani, ma sono centinaia i profughi già smistati verso i centri di accoglienza del nord Italia. Il governatore del Veneto, Luca Zaia, appena rieletto alle regionali di settimana scorsa, ha fatto sapere che il Veneto non ospiterà più migranti. Stiamo per scoppiare, ha dicariato ieri in un'intervista al Corriere della Sera. Stando ai numeri però, in Veneto ci sono 2.977 migranti, contro i 16.010 della Sicilia, la regione con il più alto numero di profughi, e contro gli 8.611 del Lazio. In terza posizione è la Lombardia, con 6.599 migranti e con la proposta shock del governatore Roberto Maroni, che ieri ha annunciato. Ai comuni che accoglieranno i migranti in arrivo, ridurrò i finanziamenti regionali come disincentivo. Gli ha fatto eco il nuovo governatore della Liguria, Giovanni Toti. Non voglio nessun profugo nella mia regione. Deborah Serracchiani, governatore del Friuli Venezia Giulia e vice segretario del Partito Democratico, risponde che ogni regione deve fare la sua parte.